Ancora una volta i campanacci risuonano nelle valli, nei boschi, nelle vie di Gallio, appena prima del ritorno nelle case e nelle stalle degli ultimi Malgari e delle Mandrie che hanno popolato questa estate le terre alte dell'altopiano dei sette comuni. Con la transumanza di Malga Spill e ormai gli sgoccioli, nonostante l'ottobre decisamente estivo, la stagione dell'alpeggio chiusa ufficialmente da San Matteo. E così allevatori, gestori, amministratori comunali e cittadini si sono ritrovati in paese per la consegna delle bellissime ciocche dipinte a mano da un'artigiana della zona. I grandi campanacci ornamentali sono stati consegnati a Davide Dallarizza di Bassano e Diego Mosele di Gallio. Poi giusto il tempo di un brindisi, di qualche chiacchiera sul momento complicato del comparto e via, è già tempo di portare il bestiame a Fondovalle. Se ne riparlerà a primavera. Grazie a tutti.